OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Oh nooo Ohhhh Mi è sfuggita scusate Ah lascio no vabbè Nooo Ma di nuovo ma Devo saltare premere e morire nooo devo saltare qua oh no ok oh aia e caro spio e dai alpebre morta merda qui no così no qui ma giù da ballerino scendi scendi no gli ho detto scendi scendi lei è sceso giustamente peggio chino ah no mi ha buttato del lady no no si mi becca me brava dai 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 non giù da nooo ah dove no 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 scappata ho spagliato il salto oh aiaiamo io scacciato questo ha fatto male no no oh oh non ce la faccio si ce la faccio aia no aiaiai oh dove vai? caro ma no no